Benvenuti a tutti su Crypto NFT Italia, il vostro canale dedicato al mondo delle criptovalute e degli NFT. In questo speciale video parleremo di un evento che ha scosso il mondo delle criptovalute solo una settimana fa, l'Halving di Bitcoin. Insieme, ci immergeremo nel Bitcoin post-Halving, analizzando i dati più recenti, le opinioni degli esperti e le potenziali novità che potrebbero sorgere nei prossimi mesi e anni. Per chi è nuovo in questo mondo, l'Halving di Bitcoin è un evento programmato che si verifica circa ogni 4 anni e che dimezza il tasso di creazione di nuovi Bitcoin. In parole semplici, significa che i minatori, che sono gili individui, o i gruppi che utilizzano potenti computer per risolvere complessi problemi matematici e convalidare le transazioni sulla rete Bitcoin, ricevono la metà dei Bitcoin per ogni blocco che convalidano. L'Halving è un evento significativo per diverse ragioni. Innanzitutto, riduce la velocità con cui vengono creati nuovi Bitcoin, il che può potenzialmente influenzare l'offerta e la domanda della criptovaluta. In secondo luogo, può influenzare il prezzo di Bitcoin, poiché una diminuzione dell'offerta potrebbe portare a un aumento della domanda e, di conseguenza, a un aumento del prezzo. L'Halving è un evento importante per due motivi principali. Riduce l'offerta di nuovi Bitcoin. Questo evento è programmato per avvenire ogni 210.000 blocchi minati, che si verificano circa ogni 4 anni. Con la diminuzione del tasso di creazione di nuovi Bitcoin, l'offerta totale di Bitcoin diventa più scarsa. Potenzialmente influenza il prezzo. La diminuzione dell'offerta, unita a una domanda costante o crescente, potrebbe portare a un aumento del prezzo di Bitcoin. Questo è stato il caso in passato, con i precedenti Halving che hanno coinciso con periodi di significativa crescita del prezzo. Se guardiamo agli Halving precedenti, possiamo osservare un interessante trend. 2012, primo Halving. Il prezzo di Bitcoin è passato da circa 10 dollari a oltre 1000 dollari entro la fine del 2013, un aumento di oltre 100 volte. L'evento ha portato a un'aumentata attenzione su Bitcoin e ha contribuito a legittimarlo come una nuova asset class. Si è verificata una crescita significativa dell'ecosistema Bitcoin, con lo sviluppo di nuovi wallet, exchange e servizi. 2016, secondo Halving. Il prezzo di Bitcoin è salito da circa 600 dollari a oltre 20.000 dollari entro la fine del 2017, un aumento di oltre 3.000 volte. Questo Halving ha innescato una bolla speculativa che ha portato a un picco di prezzo e a un successivo crollo all'inizio del 2018. Nonostante il crollo, l'evento ha consolidato l'interesse per Bitcoin e ha attirato un afflusso di nuovi investitori istituzionali. 2020, terzo Halving. Il prezzo di Bitcoin, influenzato anche dalla pandemia di Covid-19, è aumentato da circa 4.600 dollari a oltre 60.000 dollari entro la fine del 2021, un aumento di oltre 1.200 volte. Questo Halving è avvenuto durante un periodo di incertezza economica globale, portando alcuni a considerare Bitcoin come un rifugio sicuro simile all'oro. L'adozione di Bitcoin è cresciuta ulteriormente, con grandi aziende come Tesla e MicroStrategy, che hanno iniziato ad acquistarlo e ad integrarlo nelle loro attività. È importante notare che ogni Halving è un evento unico e il suo impatto sul prezzo e sul mercato di Bitcoin può variare in base a diverse condizioni. Halving di Bitcoin del 2024 potrebbe innescare nuove tendenze e tecnologie nel panorama delle criptovalute. Ecco alcune possibilità. Aumento dell'adozione di Bitcoin Con la diminuzione dell'offerta e il potenziale aumento del prezzo, Bitcoin potrebbe diventare più attraente per investitori istituzionali e privati, portando a una maggiore adozione e utilizzo. Questo potrebbe tradursi in un aumento del numero di aziende che accettano Bitcoin come metodo di pagamento, così come in nuovi prodotti e servizi basati su Bitcoin. Sviluppo di tecnologie di mining più efficienti La ridotta redditività del mining dopo l'Halving potrebbe spingere i miner a sviluppare tecnologie più efficienti, per estrarre Bitcoin con un minor consumo energetico e costi. Questo potrebbe portare a nuove soluzioni di mining basate su energie rinnovabili o a tecnologie di mining più decentralizzate. Crescita del Lightning Network Il Lightning Network è una soluzione di secondo livello che consente transazioni Bitcoin più veloci e a basso costo. L'aumento dell'adozione di Bitcoin potrebbe portare a una maggiore crescita del Lightning Network, rendendolo una componente più importante dell'ecosistema Bitcoin. Sviluppo di nuove applicazioni DeFi La finanza decentralizzata, DeFi, è un settore in rapida crescita che consente transazioni finanziarie senza intermediari. L'Halving potrebbe incoraggiare lo sviluppo di nuove applicazioni DeFi basate su Bitcoin, offrendo nuovi modi per investire, prendere in prestito e guadagnare interessi su Bitcoin. Aumento dell'interesse per GALI NFT basati su Bitcoin GLE NFT, Non Fungible Tokens, sono asset digitali unici che possono rappresentare proprietà di oggetti fisici o digitali. L'Halving potrebbe portare a un aumento dell'interesse per GALI NFT basati su Bitcoin, creando nuove opportunità per la creazione e la commercializzazione di NFT. Sviluppo di protocolli di Layer 2 I protocolli di Layer 2 sono soluzioni che si basano sulla blockchain di Bitcoin, per consentire transazioni più veloci e scalabili. L'Halving potrebbe accelerare lo sviluppo di protocolli di Layer 2, come sidechains e rollups, per migliorare la scalabilità e l'usabilità di Bitcoin. Già alcune banche centrali stanno acquistando Bitcoin, in quanto viene considerato come una riserva di valore paragonato all'oro. È molto importante sottolineare che nel mese di gennaio 2024 è stato listato ETF Spot Bitcoin sul mercato americano, portando il Bitcoin ai nuovi massimi, ovvero a quasi 74.000 dollari, anche se adesso sta scontando l'euforia iniziale. Tuttavia, potrebbe dare una nuova linfa al Bitcoin il fatto che entro la fine del mese di aprile 2024 dovrebbe essere listato l'ETF Spot di Bitcoin anche sul mercato di Hong Kong e tale mercato è famoso per avere una grossa disponibilità di liquidità. In ragione di quanto espresso in precedenza, nel prossimo bull market i massimi esperti prevedono che il Bitcoin possa raggiungere il valore di 200.000 dollari. L'Halving di Bitcoin del 2024 è un evento importante che potrebbe avere un impatto significativo sul prezzo e sul futuro della criptovaluta. Tuttavia, non esiste una risposta univoca a ciò che gli investitori dovrebbero fare. L'importante è non farsi prendere dal FOMO, Fear of Missing Out, o dal FUD, Fear Uncertainty Doubt. Le opinioni espresse in questo video sono a scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria. Noi non siamo consulenti finanziari e la vostra decisione di investire va presa con attenzione e cosapevolezza. Se questo video ti è stato utile ed hai apprezzato l'argomento, ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale CryptoNFT Italia per rimanere aggiornato sulle ultime novità del mondo delle criptovalute. Assicurati di mettere un mi piace se hai trovato il contenuto interessante.